Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo episodio di EFFERMO E oggi siamo nel terzo episodio di Outlast Nello scorso episodio mi sono cagato un po' addosso 3-4 volte E in questo episodio vedrò di non cagarmi addosso tutte quelle volte Però probabilmente mi cagherò ancora di più sotto, quindi incominciamo Allora, eravamo rimasti che eravamo che quel signore era ieri pronti, ieri pronti, ieri pronti, ieri pronti MUNNAGGIA, CORDERAL, MUNNAGGIA Gli era caduto la porta addosso, cioè non addosso, gli era caduto davanti quindi non ci poteva prendere E noi siamo rimasti qua Quindi Uh, lo so chi ho otto Questo si chiama Giorgio Poi c'è questa bambola che si chiama Giovanni Eccola qua, guarda, è uno morto Questo si chiama Giovanni Si chiama Giovanni Ok A lui invece si chiama Mattia E lui non ha il nome perché è morto Comunque andiamo Andiamo avanti Com'è bello C'è proprio sexy proprio Oh, qua Mi ricordo come si corre Ah, così Vediamo come scappo però Sì ma che miglia devo fare adesso, Cristo Su, cacucca, cacucca Su, cacucca, 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 cacucca Cori, 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 cori Cristo Bastardo Porta portale, cori, 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 cori Apri, 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 apri Echop, apri la porta Cori Come si cor... Eh, la mini medicamme Come si cori, Cristo Apri... Apri, muoviti Muoviti, 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 muoviti Muoviti, muoviti, corri Corri, corri Sono morto, sono morto Sono morto C'è un morto là sopra Io ho un po' paura Devo dire la verità Ho paura di andare vicino Probabilmente, ora si sveglia No, non si sveglia Però è viva È viva Uè, vammola Sì che non è buona Vabbè Allora Allora, dove cazzo devo andare? Non so dove devo andare Dove minchia devo andare? Toglio la fotocamera Allora E si toglie sempre Ste cazzo di cuffie Allora Devo spostare questo? Ma sono un genio Sono un genio del male io Sono un genio del... Perché sto facendo così? Perché devo sentire Cosa? Cazzo miei Che cazzo ne so io È schifo Tutti morti Imbudellati Che schifo Andiamo di qua Allora Cammina piano Ah shit Ah shit Ah dicks Ah Da apposto Non sei caduto Sei fortissimo Mi scocci di leggere Allora Carica batteria La musica è proprio rassicurante È proprio Nelle orecchie La voglio Allora Di qua si sale Qui c'è una porta Batteria A posto Questo non si apre Dobbiamo andare sopra Allora Questa è una... Allora Volevo dire Una cosa solo di tarla Però mi sono dimenticato Cosa dovevo dire Che bello Sono proprio Uno di tuver Proprio Che cazzo devo fare Porca Cristo vai Corri 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 Si andava sopra Io sono stupido Vabbè la porta Non si apre Cacchia Che sono da fare qua Oh Aia Tanto non mi prendi Sai che è Ma ditemelo Che stanno Trento di loro Vabbè Amore Forse no No Non sono morto 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 Però non so dove andare Ecco Non sono morto Un' Oh my godisi Il ci네요 Le devo buy Oltre al Signore! Oltre al Signore del Signore! Il è nella casa! Il è fuori! Tu sei il barattino e il barattino! Tu sei il barattino! Buttati! Non ti butta! Che cazzo? Ah! Si è buttato! Come l'ho detto! Slide! Che cazzo fa? Acchiappa la tarpa! Ok! Che cazzo corre adesso! Io mo... Dove devo andare? Eldr Gambia! Sono ingenio! Si, faccio guardare li li. sono stati non so quanti minuti però sono stati i minuti più brutti della mia vita e sono cagato addosso però c'è delle pende quindi mi cura curati 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 non si cura curati lo vaffanculo e muori che cosa devo dire muori batteria mi ha dimenticato anche le cuffie allora qui non ci sta niente quindi apposta allora qui non ci sta niente di qua allora sentono un muro i prodotti è vivo è morto nel dubbio non ci posso vicino questa qua si chiama gianfranca questa si chiama gianfranca questa qua voglio strammatizzare un po' mi sto cagando addosso la devo devo andare di qua no perché è chiuso ovvio passa dalla pat adesso non c'è da un adesso non c'è da un che però mi devo curare ora mi devo curare qua non fa niente qui c'è un cabicesso no non è cabicesso è una cucina qui ho il cibo andato un po' a male però un po' è giusto un po' mi scocci di leggere butta ma si porca puttana senza guida devi trovare delle band mi ha rotto il cazzo due le band e questo non è buono niente muore sempre da solo è stronzo è stupido di là si va no non ci va di là no un altro foglio che cazzo stai facendo vabbè vabbè comunque sono passati 15 minuti quindi basta mi sono bloccato in questo punto quindi mi sono già rotti i coglioni spero che vi divisi piaciuto questo è stato il quarto episodio probabilmente avrete sentito rumori cazzo vabbè no quindi comunque spero che vi sia piaciuto se è così è stato mettete mi piace iscrivetevi e ciao ciao